una sfida terminata supplementare 115 a 110 percentuali notevoli da ambo le parti un tuo commento su questi 40 minuti 45 minuti intanto come avevo detto in sede di presentazione bellissimo giocare qua perché il pubblico è eccezionale l'atmosfera incredibile noi purtroppo è il terzo supplementare che perdiamo e fa male nel senso che anche questa siamo stati molto molto vicino a vincere penso che la partita della girata cavaliero con una bomba incredibile il cambio contro jt gli ha dato un lancio clamoroso poi siamo stati bravi a racciuffarla eseguendo benissimo poi nel supplementare abbiamo pagato un paio di eroi da sotto un paio di tir che aperti un po' di frenesia all'inizio poi per i tir aperti sbagliati spiaggia perché nei regolamentari abbiamo preso un fallo tecnico che c'è costato quattro punti tiene una partita bella come questa non cattiva con tanto agonismo prendere un fallo tecnico perché il giocatore fa questo gesto piange il cuore nel senso che alla fine c'è costato veramente quattro punti e quando perdono supplementare una partita bella come questa non non grandi grandi difese no secondo me tantimeni c'erano gli attacchi loro noi abbiamo fatto una ottima partita d'attacco per essere stata aggressiva tutta la partita la loro fisicità sono stati sono stati molto molto fisici noi siamo stati discreti a tratti abbiamo avuto il momento abbiamo fermato un po troppo la palla abbiamo pagato però questo qua ancora parte del nostro percorso difensivamente c'erano tanto da recriminare ma i percentuali sono stati incredibili adesso sto volgendo adesso da due hanno tirato il 63% all'intervallo erano forse addirittura al 70% o giù di lì quindi fai patica se consenso una difesa solida e questo è il nostro termine da kill purtroppo e continuiamo a portarci dietro dobbiamo tenere la testa alta e ripartire cioè tornare in palestra con un po' di lavorare perché veramente ci manca a noi manca pochissimo per fare un passo e uscire da questo momento qua complimenti di nuovo a trieste mi fermo ci sono domande coach avete svegliato anche dormiva con neca mosley nel senso che poi ha fatto una partita strepitosa tirato no non è che abbiamo svegliato perché anche loro tirato 50 per cento tira 40 37 38 ha fatto con due studi molto importante però in quel momento lì era una cosa che abbiamo voluto fare ha pagato in altri momenti perché poi comunque abbia fatto un paio di parziali spedendo un paio di falli intelligenti su di lui poi lui ha una felicità notevole e loro sono bravi a beccarlo oggi neanche troppo penso per meriti nostri poi è stato bravo lui